Sì, grazie Presidente. Allora, a beneficio del duro lavoro delle verbalizzanti sintetizzerò il mio intervento con, esprimo, apprezzamento per il lavoro della Commissione. Questo può essere sintetizzato ai fini del verbale, perché l'attacolo che voglio dire è focalizzare da un lato l'ottimo intento bipartisan, insomma, da parte dei componenti della Commissione nel cercare di guardare oltre chi è maggioranza e chi è opposizione adesso. Quindi stabilire delle regole, o meglio, fare attenzione affinché le regole stabilite siano chiare, inequivocabili ed efficaci per l'azione amministrativa, a prescindere da chi governa. E quindi, insomma, questo è sicuramente lo debole. Le altre due osservazioni che si possono velocemente fare è, da un lato, visto i refusi nell'indice, quello di mettere all'indice i refusi. L'ultima cosa che si può dire è che, vista la questione del mezzo consigliere, è stata fatta una giusta soluzione per evitare di dover affermare che il fine giustifica il mezzo. Grazie, Presidente.